Dovremmo smettere di dare voce a quello che leggiamo sui social? Io, come sai, penso una cosa, l'ho già detta qui, la ripeto. Credo che chiunque possa avere il diritto di manifestare la propria idea e per questo non vada ghettizzato. Chi vuole discriminare, ghettizzare, scimmiottare, ridicolizzare, rendere residuale, chiunque abbia oggi un legittimo timore. Del resto abbiamo vissuto due anni una pandemia catastrofica e c'è stata una comunicazione molto scarsa rispetto a quella che è una campagna vaccinale in ogni caso controversa. Bene, esistono oltre 14 milioni di italiani che hanno deciso che in questo momento non è opportuno per loro vaccinarsi, non sono tutti i no-vax dell'epoca. Quindi scimmiottare queste persone, metterle alla berlina di fronte al pubblico, secondo me è sbagliato oltre che inutile. Oggi Mario Giordano ha scritto un articolo dove dice mi denuncio, da oggi fondo le brigate no TAS e sostanzialmente diceva esattamente questo, pur da vaccinato e pur favorevole alla vaccinazione, dicevo i miei dubbi e vorrei che semplicemente potessi esprimere questi miei dubbi senza essere etichettato come un pericoloso no-vax che non sono.